Benvenuti a tutti, continuiamo il nostro viaggio nella salute. In questa puntata parleremo di parodologie vascolari e lo faremo con una persona di cui ho molta stima e vado subito a dare il benvenuto al nostro dottor Crinisio, responsabile del reparto dell'unità di chirurgia vascolare della casa di cura Salus di Battipaglia. Salve a tutti, grazie a te Cora, benvenuti a tutti i telespettatori. Vado subito a chiedere al dottor Crinisio quali sono le tecnologie innovative nel trattamento delle patologie vascolari, molto diffuse insomma, purtroppo soprattutto in un certo target e fascia d'età come ad esempio l'ictus cerebrale, il trattamento delle ischemie a critica gli arti, il trattamento degli aneurismi alla orta addominale. Bene, oggi l'innovazione tecnologica è qualcosa di importantissimo che pervade tutti i campi del sapere umano e tutti i campi della conoscenza, così come in ambito tecnologico, che sia informatico, che sia aerospaziale, ci sono innovazioni continue, così anche in medicina, dico medicina per comprendere tutti gli ambiti, specialmente della chirurgia, ci sono innovazioni tecnologiche che consentono giorno dopo giorno di ottenere risultati sempre più sorprendenti. Questo avviene in ambito di chirurgia vascolare. In ambito di chirurgia vascolare in tutte, diciamo così, gli ambiti appunto che riguardano appunto le patologie vascolari, che si vada cioè dalla prevenzione chirurgica dell'ictus cerebrale per il trattamento per esempio delle senosicarotidee, che possono essere oggi trattate sia con chirurgia tradizionale, cioè chirurgia classica, sia con le tecnologie di tipo endovascolare, sia nell'ambito del trattamento delle schemie periferiche che consentono con interventi mini invasivi, interventi anche piuttosto rapidi, di risolvere problematiche che siano alte, quindi aortoiliache o periferiche, quindi degli arti inferiori, in maniera abbastanza, diciamo così, rapida e completa, evitando cioè a volte quei tempi di chirurgia tradizionale lunghissimi che, diciamo così, esponevano anche il paziente stessa a un chirurgico abbastanza importante. Così anche per esempio nell'ambito della patologia aneurismatica per gli aneurismi dell'aorta addominale, che prima tutti prevedevano l'intervento di laparotomia xifopubica, cioè apertura completa dell'addome e interventi abbastanza complessi, con tempi di rianimazione lunghi e un recupero post-operatorio molto molto lungo, oggi invece alcuni di questi interventi, quindi oserei dire quasi la maggior parte, possono essere trattati in maniera molto meno invasiva, senza l'apertura dell'addome, con delle piccole incisioni cutanee inguinali o a volte addirittura anche senza queste, mediante puntura transcutanea, con delle cosiddette endoprotesi, cioè il rilascio di protesi interne ai vasi stessi, in modo da escludere la sede dell'aneurisma, agganciandosi al di sopra e al di sotto dell'aneurisma stessa in punti di ancoraggio sani, diciamo così, dell'ambito vascolare. Ora, se vogliamo andare ad analizzare singolarmente le varie problematiche, noi possiamo dire che, per esempio, la chirurgia, i trattamenti endovascolari si basano su dispositivi che sono tecnologicamente molto avanzati e in cui c'è una, diciamo così, quotidiana innovazione, avanzamento delle tecniche, per cui quasi tutti i distretti corporei che oggi sono raggiungibili per via endovascolare, anche i distretti più complessi, anche i distretti che, per esempio, prevedono una tortosità basale importante o sedi molto distanti dal, diciamo così, dal punto di ingresso, che all'inizio anche di queste procedure, ripeto, meno invasive erano difficilmente raggiungibili. Oggi è difficile non poter raggiungere determinati distretti corporei per via endovascolare. Per cui le tecnologie innovative, meno invasive, che tramite l'utilizzo di fili guida che consentono di raggiungere i distretti interessati dalla patologia, l'utilizzo di palloni, di stent metallici, di protesi interne, eccetera, questi dispositivi possono essere, diciamo così, utilizzati in quasi tutti i distretti corporei, nonostante la difficoltà a volte di accesso. È ovvio che in tutti gli ambiti che si vada dalla chirurgia carotidea a quella periferica o a quella ortica, la chirurgia tradizionale non è ormai sorpassata, come a volte si tende a dire, ma la chirurgia tradizionale è un presidio importantissimo che ci consente di risolvere dei problemi particolari nell'ambito della chirurgia vascolare, per cui viene utilizzata in determinati momenti, in determinati distretti e talora anche in associazione alla chirurgia endovascolare. Per esempio, possiamo a volte trattare pazienti con ischemia critica degli arti inferiori utilizzando entrambe le tecniche, rivascularizzando per esempio l'istretta ortoiliaco, cioè all'interno della pancia, mediante il trattamento endovascolare di angioplastica con stent, portare flusso sufficiente agli arti inferiori da cui partire proprio con un bypass, quindi con un innesto a ponte che va a saltare, cioè praticamente la parte ostruita, e portare sangue verso una periferia senza fare, diciamo così, dei tagli e dei bypass estremamente lunghi che dalla pancia possono arrivare fino al piede. Oggi le tecnologie meno invasive ci consentono, diciamo così, tanti vantaggi. Innanzitutto possiamo rivascularizzare per esempio il paziente diabetico anche le arcate plantari, cioè arrivare addirittura all'interno del piede, rivascularizzare distretti che hanno un'occlusione estremamente distale e in qualche modo portare ristoro, quindi portare sangue nutritivo a quei tessuti che stanno soffrendo per l'ischemia, anche se, diciamo così, tessuti che non sono per esempio trattabili con la chirurgia classica tradizionale. Questo nuovo approccio ci consente di ottenere risultati, diciamo così, estremamente validi e di risolvere patologie che all'inizio non erano, diciamo così, trattabili in maniera estremamente completa. Andando ad analizzare singolarmente per quanto riguarda la prevenzione chirurgica dell'ichitus cerebrale, noi ci avvaliamo di due tecniche. La tecnica chirurgica tradizionale di endoarteriectomia carotidea che consente, mediante, noi qui alla Salus attuiamo l'anestesia locoregionale, quindi il blocco cervicale del collo per quanto riguarda il blocco anestetico e quindi andiamo a, diciamo così, isolare l'asse carotideo, indurre una chiusura del flusso nella sede della stenosi carotidea e in qualche modo aprire l'arteria, a pulire, diciamo così, l'arteria dalla placca ateromasica, controllare bene il fondo del, diciamo così, del tratto sottoposto a endoarteriectomia e richiudere l'arteria con l'interposizione di un patch, un patch alloplastico. Questo intervento consente di pulire, portare via la placca dalla carotide e in qualche modo ristorare il flusso a livello cerebrale. Ci sono delle possibili complicanze legate, diciamo così, all'atto chirurgico in sé, quindi come la possibile lesione di nervi cranici, gli ematomi, che sono, diciamo così, complicanze estremamente rare e che nella nostra casistica sono, diciamo, molto 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 basse, quindi siamo molto al di sotto dello 0,5-1%. Per quanto riguarda invece la chirurgia carotidea trattata per via endovascolare, attraverso l'inguine noi riusciamo ad arrivare a sedi abbastanza distanti, anche, diciamo così, placche ateromasiche che sono alla base cranica, mettiamo dei filtri di protezione cerebrale e mediante un palloncino e uno stente che viene fatto scorrere lungo un filo guida, riusciamo a dilatare la placca e a mettere uno stente di allargamento che ristore il flusso. Si rimuove poi il filtro di protezione cerebrale per evitare che ci possano essere di microemboli a livello cerebrale e vengono rimossi tutti i dispositivi. Questa tecnica viene fatta mediante una puntura inguinale che non richiede nessuna incisione chirurgica e, diciamo così, dalla quale si può accedere, diciamo così, a tutti i distritti. Abbiamo avuto casi particolari in cui abbiamo dovuto, per esempio, operare un paziente già trattato in altra sede alcuni anni precedentemente per dei microfrustoli, microemboli che partivano dalla sede dell'endoarterio economia chirurgica e noi siamo riusciti a posizionare degli stent ricoperti che siano andati in qualche modo a chiudere questo letto che embolizzava. Oppure, per esempio, abbiamo trattato un altro paziente che non aveva accessi periferici perché aveva una patologia arteriosa pluridistrettuale per cui dal linguine non era possibile arrivare alla carotide. L'abbiamo trattato dal braccio destro andando a risolvere il problema alla carotide sinistra. Quindi questo a voler dimostrare che la tecnologia oggi ci consente, mediante un po' di buonsenso e degli approcci chirurgici mirati, raggiungere anche distretti corporei difficilmente raggiungibili in altri tempi, diciamo così, che avrebbero richiesto in altri tempi appunto un atto chirurgico tradizionale. Per quanto riguarda la rivascolarizzazione periferica, quindi della hort degli arti inferiori, a volte si può andare dal braccio, si pone un catetere angiografico a livello sottorenale, quindi a livello, diciamo così, al di sotto del diaframma, dall'angiografia si vedono bene, si visualizzano quelle che sono le sedi interessate alla patologia ateromasica e si vanno a far scorrere sempre su questi fili guida tutti i presidi, che siano stent, palloni o endoproteci, che servono in qualche modo a riaprire i vasi e a portare sangue, a portare il soro ai tessuti in ischemia. Si ricorda che i tessuti in ischemia, cioè i tessuti che sono malirrorati da un distretto arterioso ostruito, soffrono per la carenza di nutrizione, rienti, cioè il sangue arterioso è quello che porta nutrimento e ossigeno ai tessuti, quindi un'occlusione arteriosa in qualche modo porta la sofferenza del tessuto fino alla necrosi e alla morte cellulare. Quindi il ristoro è importante, è importante ottenerlo con qualunque presidio si possa ottenere in tempi rapidi e anche talora associando la chirurgia classica alla chirurgia tradizionale, alla chirurgia, alla trattamento endoscolare, così come abbiamo detto in precedenza. Gli aneurismi dell'aorta addominale, che è l'altra patologia di cui abbiamo parlato in precedenza, sono questa dilatazione progressiva dei vasi all'interno dell'aorta che hanno una mortalità enorme, quindi dal 70 al 90% degli aneurismi rotti, diciamo così, muoiono prima di arrivare in ospedale. È ovvio che questa patologia, se scoperta in tempi non sospetti, quindi in elezione, quindi quando il paziente è asintomatico può essere gestito e trattato con, diciamo così, eccessiva, con tanta, diciamo così, buonsenso utilizzando la tecnica che per il paziente è la più adatta al momento. Cioè anche un paziente che dovesse arrivare in urgenza può essere sottoposto a un trattamento endovascolare che blocchi immediatamente l'emorragia della rottura dell'aneurismo e poi gestito in maniera serena e tranquilla o completando l'atto chirurgico per via endovascolare o completandolo con un atto chirurgico tradizionale mediando il confezionamento un bypass femorofemorale crossover. Quindi questi trattamenti, una volta non erano, diciamo, così possibili, il paziente, ripeto, veniva sottoposto a un trattamento chirurgico molto complesso con l'apertura dell'addome e i tempi di animazione molto lunghi. I vantaggi di queste tecniche sono non soltanto per il paziente, cioè per il singolo che in qualche modo ha un trauma chirurgico molto più basso, ma anche per la società in quanto, diciamo così, il rientro al lavoro del paziente stesso, il rientro alla vita sociale molto più rapido, i costi di degenza sono notevolmente ridotto, così come i costi di gestione della terapia intensiva post-operatoria, per esempio. Nell'ambito di queste patologie non dobbiamo dimenticare il piede diabetico di cui già abbiamo parlato in passato, dove oltre alle tecnologie innovative di tipo endovascolare si associano le tecnologie innovative di chirurgia rigenerativa, utilizzando cioè dei materiali che provengono dall'organismo stesso o materiali esterni che accelgono notevolmente la guarigione dei tessuti sottoposti alla lesione. Per esempio noi possiamo utilizzare le cosiddette, chiamiamole cellule staminali, cioè l'utilizzo dei monosciti da sangue periferico o delle cellule mesenchimali dalla lipoaspirazione addominale e metterle sul letto della lesione, infiltrarle lunghi gli assi arteriosi o vascolari malati in modo tale da indurre vari fenomeni. I fenomeni sono una neoangiogenesi, quindi una nuova divascolarizzazione del tessuto, una riduzione della flogosi tessutale, cioè dell'infiammazione che è in qualche modo associata ai punti di ischemia o ai punti di lesione, e ottenere una rigenerazione tessutale perché essendo delle cellule cosiddette totipotenti, cioè possono differenziarsi in varie linee cellulari a seconda dei vari tessuti, possono creare loro stessi nuovo tessuto. Oltre a questo abbiamo anche i tessuti riprodotti in laboratorio, abbiamo le matrici dermiche per esempio che possono essere riprodotte in laboratorio e appoggiate, messe sul letto della lesione in modo da creare un supporto, cioè uno scaffold si dice, dove le cellule dell'organismo stesso possono, colonizzando questo supporto, far recuperare molto più rapidamente la guarigione alla lesione stessa. Oltre a questo anche gli innesti di cute che noi possiamo utilizzare per completare la guarigione tessutale, sono delle cose che nel diabetico per esempio, oltre che nei pazienti sottoposti a lesioni molto estese, danno un presidio importantissimo a volte per salvare la vita del paziente stesso, o salvare, diciamo così, un arto, quindi salvare il paziente da un'amputazione, perché in qualche modo consentono di risolvere molto più rapidamente un problema per il paziente portando a una guarigione fondamentale per evitare problematiche di scompenso metabolico del paziente stesso. Questo per fare una panoramica quantomeno ampia su quelle che sono le varie tecniche che possono essere utilizzate in tutti gli ambiti di chirurgia vascolare. Non dimentichiamoci che anche in ambito venoso, quindi nella patologia varicosa per esempio, esistono sia tecnologie classiche di chirurgia tradizionale che tecnologie invasive che ci consentono, con minimi approcci avvolti in anestesia locale, di ottenere risultati sorprendenti anche per la chiusura di vene varicose che prima erano sottoposte a dei trattamenti chirurgici un po' più complessi. Ma il messaggio che noi dobbiamo dare oggi non è quello, diciamo così, secondo cui si sta andando avanti sempre più e soltanto verso una tecnologia innovativa mini-invasiva, ma che questa cosa è un supporto nell'armamentario terapeutico che noi abbiamo a disposizione per ottenere dei vantaggi molto più ampi e in tempi molto più brevi per il paziente, sapendo che le due procedure sono di supporto l'uno all'altro, cioè a volte prese singolarmente, a volte prese associate nella cosiddetta chirurgia ibrida, ma è ovvio che deve essere il chirurgo ad avere la conoscenza, le capacità tecniche di entrambe le procedure per poterle mettere appunto in pratica singolarmente o associate, avendo come unico obiettivo, unica finalità, quella che è il bene del paziente, quindi la salute del paziente. Ed è in base a questo che si deve scegliere, cioè la tipologia del paziente. È ovvio che noi dobbiamo guardare non la malattia singolarmente, fine a se stesse, ma dobbiamo guardare il paziente. Cioè il paziente presenta quella malattia, ma ha delle comorbidità, ha delle patologie associate che a volte per esempio ci controindicano l'utilizzo di una tecnica. Si pensi per esempio a un paziente che abbia un'insufficienza renale importante, non può fare mezzo di contrasto. Questo paziente non può avvalersi delle tecniche di chirurgia endovascolare che molto spesso richiedono il contrasto, deve essere sottoposto a chirurgia tradizionale. Oppure si pensi a un paziente che ha uno scompenso cardiaco importante, con una frazione di azione molto bassa, è ovvio che un trauma chirurgico molto importante potrebbe non essere sopportato dal paziente stesso, mentre un trattamento endovascolare potrebbe risolvergli il problema senza metterlo a rischio della vita. Quindi è ovvio che deve essere il chirurgo in base alla tipologia del paziente a scegliere avendo, diciamo così, le capacità tecniche e a disposizione materiali, a volte sono materiali costosi. È ovvio che se io devo scegliere in urgenza e trattare un paziente e non ho il materiale giusto che fa per me, non è che posso in qualche modo adeguarmi a quello che ho a disposizione, devo scegliere per bene il paziente. Quindi è una fase complessa che a volte richiede tempi molto rapidi di decisione, ma che in qualche modo va presa in considerazione. Da quello quindi che ci pare di capire dalle parole insomma del dottor Crisio, la tecnologia, quindi l'innovazione, va di pari passo con la chirurgia tradizionale. Qual è quindi questo rapporto, anche se un po' insomma ce l'ha accennato, ma soprattutto nell'anno scorso l'abbiamo seguita nel congresso, dove appunto si aveva questo tipo di approccio, cioè un connubio tra futuro e passato. Ce ne parla un po' dottor Crisio? Sì, in realtà noi l'anno scorso abbiamo fatto due congressi importanti in ambito di chirurgia vascolare, dove un po' abbiamo accennato a queste nuove tecniche, a queste nuove procedure e il congresso che abbiamo fatto, Innovazione e Tradizione in Chirurgia Vascolare, era un congresso che in qualche modo avremmo dovuto ripetere quest'anno, per problematiche legate alla pandemia non è stato possibile, sicuramente se i tempi ce lo consentiranno sarà un appuntamento importante per l'anno prossimo. Riguardo al rapporto che c'è tra la chirurgia tradizionale e le tecniche di chirurgia innovativa mini-invasiva, l'abbiamo già accennato e in realtà è proprio quello che abbiamo detto, cioè non è un rapporto esclusivo dell'uno dell'altro, a meno che il chirurgo non abbia le capacità tecniche dell'una soltanto o dell'altra, è ovvio che un chirurgo vascolare oggi che ha a disposizione le capacità e i materiali per mettere in atto entrambe le procedure, sceglie in base al tipo di paziente, in base alle problematiche del paziente, sapendo che le due tecniche vanno di pari passo, come ha detto tu Cora, e che in qualche modo vanno, diciamo così, anche associate in casi particolari per ottenere un migliore risultato per il bene del paziente. Si tenga presente anche un'altra cosa, che oggi la chirurgia tradizionale non è la chirurgia vecchia di una volta, è una chirurgia tradizionale intesa nel senso delle tecniche tradizionali di chirurgia vascolare, ma anche la messa in opera della chirurgia tradizionale oggi è molto meno invasiva che una volta. Per esempio, nell'ambito delle patologie venose o nell'ambito delle cicatrici chirurgiche che vengono fatte per una endoartereconomia carotidea o anche per una rivascularizzazione periferica, ci sono tecniche che consentono cicatrici molto meno estese, un impegno fisico del paziente anche molto meno esteso rispetto a quelle di una volta. Quindi anche la chirurgia tradizionale è una chirurgia abbastanza, diciamo così, approcciabile, quindi messa in atto in qualche modo senza grossi traumi per il paziente. Quando è praticabile la chirurgia minima invasive, ovviamente quella dà risultati sovrapponibili o anche migliori talora senza assolutamente il trauma chirurgico. In questo caso è ovvio che si preferisce per quella, ma è ovvio che in qualche modo va considerato il paziente con le sue problematiche, le sue patologie, va messa in atto una cernita, un vaglio dei materiali che si hanno a disposizione, va considerato quello che è il possibile rientro nell'ambito lavorativo della vita sociale del paziente senza un grosso onere per il servizio sanitario nazionale. Ed è ovvio che in qualche modo poi c'è il chirurgo dall'altra parte che non deve perdere mai, al di là di quelle che sono le linee guida che vanno seguite in tutte le loro parti, il buonsenso. Il buonsenso ti consente in alcuni casi di valutare bene per quel paziente particolare qual è la tecnica da utilizzare o da associare. Quindi è ovvio che sono due armi a disposizione, due armi a disposizione dello stesso chirurgo che deve utilizzarle singolarmente assieme per ottenere un risultato migliore. E' questo il rapporto che deve esserci tra la chirurgia tradizionale e la chirurgia innovativa, minim-invasiva, endovascolare diciamo così, o le tecnologie, le biotecnologie che si hanno oggi a disposizione per le lesioni e per il piede diabetico. Ringrazio moltissimo il dottor Crinisio e sarà sicuramente ospite in un nostro prossimo appuntamento. Grazie a te Cora, grazie a tutti i telespettatori che hanno a volte la pazienza anche di ascoltarci su argomenti che in qualche modo cerchiamo di rendere quanto più possibile vicini alle persone per far capire quello che facciamo. Diciamo che oggi alla Salus noi siamo una realtà che in qualche modo ha dei buoni livelli nazionali di trattamento dei pazienti, che in qualche modo è vicino quanto più possibile alla popolazione. Grazie a tutti ancora e alla prossima. Ringrazio tutti voi di averci seguito fin qui, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che potete come sempre scriverci sia su Instagram che su Facebook. Grazie a tutti.